Un caro saluto a tutti, buongiorno. Oggi vi parlerò da segretario generale dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri. Ho premesso questo perché quello che dirò è molto grave, almeno dal mio punto di vista, e voglio dirlo da sindacalista, perché questo è fare sindacato, quello che dirò adesso. Ho avuto modo di studiare la bozza della legge di bilancio per il 2021. Ho avuto modo di studiare questa bozza e veramente mi sono incazzato. Incazzato perché adesso lo scoprirete. Primo articolo che vi porto all'attenzione, articolo 195. Esigenze parlamentari. Dovete sapere che nel 2014 il governo Presumo Renzi istituì un fondo per le esigenze parlamentari, vari tipi di spese. E in quel fondo, in quel paniere, posizionò per il primo anno 27 milioni, poi strutturò 25 milioni l'anno. Ebbene, non si capisce perché, in un momento così grave di pandemia, dove il Parlamento peraltro fa soltanto opera di comparsa, visto che decide tutto il governo con DPCM, bene, forse sarà questo il vero motivo, questo fondo per le esigenze parlamentari è stato implementato in questa bozza di legge di bilancio, articolo 195, è stato implementato di oltre il 3.000%. 3.000%. E poi struttureranno, dal 2022, si sono forse vergognati, struttureranno solo il 1.500%. In soldoni, questo fondo passa da 25 milioni a 800 milioni per il 2021 e sarà strutturato in 400 milioni annui dal 2022. Vergogna. Ecco. Uno dei motivi perché sono incazzato è leggere questi articoli. Vergogna. Il fondo vergogna. E invece sulla scuola, sulla sanità, sulla sicurezza, poco e niente. Più niente che poco. Vediamolo. Abbiamo l'articolo 154 con ulteriori 50 milioni per attribuire ai servizi esterni. Articolo 152, sempre dal 2021. Oltre ai fondi già stanziati, ulteriori circa 100 milioni per il comparto difesa e sicurezza di cui a noi carabinieri verranno circa 20 milioni. Con questi 20 milioni, per farvi capire, ci paghiamo se no un mese e mezzo di servizio esterno. 20 milioni. Cioè, faccio un passo indietro. mille persone che stanno al Parlamento avranno 800 milioni e invece 500 mila operatori di mezzo alla strada, sicurezza e difesa. 50 milioni, 100 milioni. Ma di cosa parliamo? Ecco perché sono incazzato. Nero. Poi non finisce qua, perché per ultimo mi sono lasciato la chicca, il rifinanziamento di strade sicure. Voi lo sapete, io sono storicamente contrario a strade sicure, perché ritengo che sia un servizio che potrebbe essere con quei soldi svolto da carabinieri e polizie, assumendo carabinieri ausiliari e poliziotti ausiliari. E sarebbero anche agenti di PG, cosa che i militari non lo sono. Però noi dipendiamo dallo Stato Maggiore Difesa e quindi ovviamente sono loro che decidono queste cose insieme al governo. Però strade sicure. Ma vediamo un po' nel dettaglio come è finanziato o strade sicure e perché è finanziato in questo modo. Strade sicure ha avuto un rifinanziamento, perché giustamente ogni anno, ogni due anni, ogni legge di bilancio in genere rifinanziano qualcosa per l'anno successivo. Hanno finanziato rispettivamente 167 milioni per il 2021 e 141 e qualcosa per il 2022, per 7.000 unità di persone, 6.000 unità, eccetera, eccetera, che devono svolgere questi servizi, delle forze armate. Di tutti questi soldi però, il 98% va al comparto difesa. Al comparto sicurezza, ovvero polizie e carabinieri, vanno solo per ogni anno circa 2 milioni e mezzo. Allora mi sono chiesto perché devono specificare questo. Allora ho fatto un po' di ricerche a ritroso e ho visto questo, ho notato questo. Ho notato che il provvedimento di legge, della bozza di legge, di legge di bilancio, rimanda, richiama il decreto legge 78-2009, che a sua volta rimanda al decreto legge 92-2008, che all'articolo 7 bis cita testualmente concorso delle forze armate nel controllo del territorio e poi fa una serie di specificazioni. Ma quello che mi interessa a me è il titolo, concorso delle forze armate nel controllo del territorio. Ma il concorso lo stiamo facendo noi, con 2 milioni e mezzo. Loro stanno facendo il controllo del territorio, con 120 milioni, cioè 165 milioni che si mettono nelle loro tasche. La 121 ci dice che dobbiamo fare il concorso con la polizia per l'ordine pubblico e decidono loro. Il decreto legge del 2008, il 92 del 2008, dice che sono le forze armate che dovrebbero concorrere con noi, però loro si prendono i soldi e noi concorriamo. Non lo so che significa. Una cosa è certa, è molto grave, è molto particolare questa cosa. Non sarebbe stato meglio metterci 7 mila carabinieri ausiliari, 7 mila poliziotti ausiliari con gli stessi soldi? No, dobbiamo mettere quei ragazzi dell'esercito che paradossalmente quando fanno questi servizi è vero che guadagnano tanti soldi, ma è pur vero che non hanno nessun potere e rischiano di prendere schiaffi da tutti. Ebbene, su questo mi pongo soltanto un piccolo dubbio che vorrei da sindacalista mi venisse risolto dai colleghi sindacati Interforze, ma dalle sezioni carabinieri dei sindacati Interforze, per sapere se loro condividono queste scelte che ormai vanno avanti dal 2009. Ecco perché dico sempre che ognuno deve fare il sindacato o il sindacalista a casa sua. Comunque è soltanto una mia curiosità. Il motivo per cui era incazzato, sono incazzato e l'ho letto. Io mi auguro che il governo possa redimersi e quantomeno accettare alcune delle proposte che come sindacato, come unione sindacale, abbiamo inviato ad alcuni onorevoli, ovvero a costo zero, cioè senza costi, non 800 milioni, non 50 milioni, zero, avevamo chiesto di dare un po' di dignità al personale e vi dico quali? A quei luogotenenti che non possono partecipare all'ultimo concorso ruolo esaurimento straordinario perché non avevano i requisiti nel 2017. Abbiamo chiesto di estendere i requisiti a tutti quelli al 2020. La stessa cosa l'avevamo chiesta per il concorso straordinario dei brigadieri, il prossimo. Abbiamo visto che è stato un flop il primo corso, su 300 composti a disposizione, soltanto 240 partecipazioni e di questi 240, 100 hanno rifiutato, sembrerebbe. Quindi abbiamo detto allarghiamo le maglie e stendiamola a tutti quelli che sono brigadieri di capo qualifica speciali alla fine del 2020. Avevamo chiesto di eliminare l'ingiusta norma che dice che i vicebrigadieri per poter compartecipare al concorso loro dedicato devono avere quattro anni nel ruolo di vicebrigadieri e allora nessuno può partecipare perché dopo quattro anni tutti diventano brigadieri. Avevamo chiesto di togliere questo perché i quattro anni sono necessari ai carabinieri per diventare brigadieri o per fare carriera, ma i vicebrigadieri c'è gente con carriera alle spalle. Avevamo chiesto anche di eliminare dai bandi di concorso la berrande dicitura che prevede che non bisogna essere stati condannati per un qualsiasi tipo di delitto. Ora, se io venti anni fa sono stato condannato per una fesseria, ho avuto una sanzione di Stato per una fesseria, continuo a fare il carabiniere. Com'è che posso fare carriera da carabiniere come appuntato eccetera eccetera ma non posso fare i concorsi interni? O sono carabiniere al cento per cento? O non lo posso essere? Se ho pagato per quella condanna venti anni fa, non posso pagarla dopo vent'anni. Allora abbiamo chiesto mettete negli ultimi cinque anni, anche perché dopo cinque anni c'è il ravvedimento, c'è una sorta di... anche le leggi dello Stato prevedono che si può cancellare tutto, però tutto tranne per i concorsi interni nell'arma dei carabinieri. Ecco, avevamo chiesto queste norme a costo zero. Mi auguro ancora e si fa ancora in tempo a inserirle. Io mi auguro che oltre agli aberranti 800 milioni ci mettono anche queste norme a costo zero. Quanto meno la rabbia sarà mitigata da un piccolo successo che non riguarda il sottoscritto ma che riguarda i tanti colleghi che aspirano a fare carriera. Un saluto a tutti, scusatemi per la franchezza e scusatemi se sono stato un po' duro ma veramente non si poteva parlare diversamente. Un caro saluto a tutti voi, Antonio Tarallo.